Buongiorno, l'automal Cibustec quest'anno presenta le soluzioni più innovative per lo stoccaggio in molti profondità di palle. Rispondendo ad un'esigenza fondamentale per le aziende del settore. Soluzione semiautomatica autosat e completamente automatica con sistema supercapacitivo. Ogni informazione la potete trovare nel nostro sito inter e www.automa.it. Garantiamo un servizio completo al cliente con lo studio della soluzione più appropriata, un'installazione e un servizio garantito in tutto il mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!